Una squadra che gioca 38, 40 partite, 41 per stagione, una settimana che si prepara per questa partita e che arriverà sicuramente al top. La prima situazione è esattamente questa, è la qualità del Sassuolo e le difficoltà che sempre abbiamo contro di loro. Dopo sono onesto e dico che l'arbitro mi preoccupa perché abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro la sensazione che non ha la stabilità sufficiente, emozionale per una partita di questo livello. La gente guarda che è solo Sassuolo-Roma, non è solo Sassuolo-Roma, la Roma sta a tre punti del quarto posto, questa partita non è solo Sassuolo-Roma, no, è una partita super importante per noi. Secondo me il profilo dell'arbitro non mi lascia tranquillo, non mi lascia tranquillo anche il VAR, perché purtroppo è un arbitro che sempre abbiamo avuto sfortuna, nel senso di essere difficili di accettare un determinato profilo di lavoro e dopo abbiamo ancora un giocatore che mi dispiace, però devo nominarlo, che è Berardi, che secondo me è un giocatore assolutamente fantastico, amo quel giocatore lì, però bisogna avere un pochettino più di rispetto per gli avversari e per il gioco, perché è troppo quello che lui fa per disestabilizzare il gioco, prendere tutti in giro, prendere gialli, falli, rigori inesistenti, doppio gialli, è troppo, è troppo, io lo amo, io lo odio, amo quel giocatore lì, però quel profilo di comportamento in campo, se è un giocatore mio avrebbe un grande problema con me, perché non mi piace per niente.